ecco l'ha fatto lui, è arrivato corto ma tu non gli dai, non gli dai oh di là, di là via perchè ti salta addosso ecco sei lì dietro la pianta tutti impicciati siete arrivati, tutti ecco sei lì 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.